Prova, prova audio, prova audio, prova audio! Premi stop per fai play, provati la forza! You're ready? Yeah! Roll, roll! Ok, azione! Forza, strillalo forte e te lo segnalo! Azione! Legend! Oh, Federico, mannaggia! Federico! Oh, Federico, ma devo andare sbrigato, dobbiamo fare il porto della Wii... Ah, sei arrivato! Mi raccomando, il porto da Wii...chè che ora vi sto gestando? No, no, sto controllando i suoi flessi, vedi? Ok? Ok? Fa tutti i segni di Star City se passano, eh? Azione! Silence, quiet, please, please! C'è arrivato! Che dici? Vabbè, ti sei lavato i denti! Sì! Senti, quando? Pronto per Cinema Namai! Ma l'accendino? Non c'abbiamo l'accendino per fare quella cosa che dovremmo fare oggi? Chissà se c'è l'accendino... Che qualcuno c'ha un accendino tante volte? Un accendino che serve? Eh? Eh, vabbè... Eh, vabbè... Ecco, sì! Dai, ristatta! Stop! Sul fallandrone, ciao! Sì, basta, va! Ma no, tu, basta, puoi passare! Posso dire? Però, sì! Però, basta dire! Aspetta, la rifacciamo! Vabbè, ormai è passato! Dai, fanno passato! No, no, dai! Vabbè, ma così è! Però ci passa per riempire quel luogo! Aspetta, aspetta, che muovi! Aspetta! Aspetta! Motore è partito! Vai! Vede, ci sei! City Silence! No, ragazza! Voi sei il bastardo! Aspetta! Vedete, ragazzi! Voi sto a pensare... ...e film d'azione! E funziona! Va, capito? Guarda, rifarla dall'inizio, va, è andata benissimo! Aspetta! Vede, così va bene! Dai, è difficile, dai! Concentrate! Ma ora, veniva un po' dall'ombra la mano! Io mi limito a guardà! Sì! Ma lo devo fare tutto quanto? Così! Ma deve arrivare qua alla fine? Sì, 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 sì! L'ha visto! E stavolta facciamo così! Vai, vai! Con la crema! Con la crema! Con la crema! Con la crema! Reducente! Reducente adesso! Vai, Gianni! Sta in primo piano! Però è che... 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 Tanto taglieremo! Qual'era che dovevo dire? Che la fine non me la ricordo più! Che la fine non me la ricordo più! Questa! Ah! Ma sempre qua! Adesso abbiamo scelato il nostro trick! Che qua! Dici ma... Ma dove l'hanno nascosta la telecamera? No la riascondiamo! Ma va alla fine il cinema deve cogliere il reale! Questo è il reale! Che dice che abbiamo le cani quasi cliniche! Ok! Do you like this? L'ultimo! Ok! 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 Bye! Bye! Sennò Federico... Sai come lo finimo sto corpo metrano? Tweety! Che cronometro segna che deve finire? Mancano 4 secondi! 4... 3... 2... 1... Finish! Ok! Ok! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!